È ancora presto per cantare vittoria, cari amici ferraristi, ma i rumors che arrivano direttamente dall'Inghilterra sembrerebbero proprio parlare di un Adrian Newey ormai pronto ad entrare a Maranello. Ebbene sì, Adrian Newey finalmente potrebbe progettare delle Ferrari anche se le resistenze potrebbero arrivare non tanto da Red Bull, perché appunto le voci indicano il progettista inglese già uscito dalla squadra, ma anche semplicemente il comunicato ufficiale, ma ci sono delle pressioni economiche in particolar modo che arrivano da Aston Martin che con il progetto di Alonso, ma soprattutto un grandissimo rifacimento della squadra con tanto di Honda come motorista a partire dal 2026, potrebbero portare a Silverstone e non a Maranello il tecnico inglese. Secondo me, secondo me, secondo me, l'ho detto? Secondo me, Adrian arriverà alla Ferrari perché dopo aver progettato per March, poi diventata Leighton House, dopo aver progettato per Williams e che Williams, dopo aver progettato per McLaren e che McLaren, dopo aver progettato per tanti anni per Red Bull ed aver vinto l'impossibile con tutti i team in cui ha corso, a parte la Leighton House che comunque portava con i suoi progetti sempre vicina al podio, comunque in piazzamenti veramente molto importanti, beh, in realtà gli manca una cosa, ovvero progettare delle Ferrari e Ferrari ha la possibilità di offrire ad Adrian alcuni aspetti che lo intrigano, non poco. E uno in particolare è un aspetto che è un po' diverso da quello che vi potete aspettare, però se avete un po' di pazienza, tra poco, ve lo dico. Andiamo con ordine. New Way sicuramente, almeno questo dicono le voci che arrivano dall'Inghilterra, dovrebbe lasciare Red Bull. A confermare questo movimento è stato anche Pino Allievi qualche mese fa, direi febbraio-marzo, parlava del suo yacht, dello yacht di New Way ormai pronto ad essere ormeggiato a Monte Carlo, yacht che si è progettato autonomamente, è una barca ovviamente super efficiente, super efficace, super tutto, super veloce, non poteva che essere così del resto, che potrebbe fare diciamo da base per le attività logistiche nel sud Europa di New Way. Ho qualche dubbio se dovesse andare a Maranello che si infila in una barca a vivere, però questi qua sono matti e tutto può essere. Però la vera verità è che il movimento era già stato annunciato, Ferrari è certamente sulle tracce del tecnico britannico, Aston Martin a sua volta è sulle tracce del tecnico britannico, ma quello che può fare veramente la differenza per un progetto firmato ad adrian new way, ovvero convincere adrian new way ad arrivare all'interno di un team, è quello che questo team può offrire, ovvero la capacità di avere a disposizione strutture, la capacità di avere a disposizione persone, la capacità di avere a disposizione un motore vincente e allo stesso tempo la capacità anche di avere un team con le spalle larghe per far fronte ad alcune istituzioni politiche, ad alcune istituzioni anche tecniche e ovviamente sportive che si possono avverare nel corso di una stagione. È chiaro che il team deve essere a posto in tutte le caselle per avere un personaggio del genere, ma diciamo che in Aston Martin sicuramente tutto questo non manca, però farebbe parte di un'altra visione in cui farebbe un passo indietro anche rispetto a Red Bull, perché il suo impegno, l'impegno di adrian in questi anni è stato quello di potenziare la struttura del team britannico, tanto poi da arrivare anche a progettarsi autonomamente i motori, Red Bull powertrain fa esattamente questo, per cui a fianco dell'azienda dei telai c'è anche oggi l'azienda che fa i motori e che a partire dal 2026 li venderà a Ford, quindi i motori saranno Red Bull powertrain però pagati da Ford che chiaramente li utilizzerà per questioni di immagine come sistema per essere in Formula 1 senza doversi progettare direttamente il motore, anche perché poi per fare un motore del genere ci vuole grande competenza e ci vuole anche una struttura tecnica che sia in grado di adeguarlo in tempo zero è che ovviamente avendo Ford sede in America diventa anche forse complicato avere un dialogo tra l'Inghilterra e l'America per essere pronti e reattivi per reagire a determinati cambiamenti regolamentari o sistemazioni che servono proprio per evolvere progetti che partirebbero da zero, Red Bull powertrain invece al motore ci sta dietro da tempo, il regolamento 2026 ce l'ha ben chiaro, chiaramente è molto più conveniente per tutti sponsorizzare e portare in pista appunto motore Red Bull powertrain però sponsorizzato da Ford ma non è questo il punto quindi motore e telaio lo faceva già esattamente come un team ufficiale quindi o lo avrebbe fatto a brevissimo già quindi avrebbe avuto esattamente la condizione tecnica che trova in Alpine che troverebbe in Alpine che troverebbe in Ferrari e che troverebbe in Mercedes ovvero in quei team dove si costruiscono il motore e si costruiscono anche il telaio. In Aston Martin dunque avrebbe a che fare con una struttura che fa il telaio ma che non fa il motore perché il motore glielo farebbe la Honda, certamente ci sono forti contatti tra il telaista e il team chiaramente e la Honda, continuano ad andare avanti e indietro i tecnici di Aston Martin verso Tokyo proprio per mettersi d'accordo su quelle che sono le necessità di uno dell'altro, vedi quello che ti dicevo cioè fare il motore in America per la Ford sarebbe molto impegnativo, molto meglio farselo fare da qualcuno e ribeggiarlo per intenderci però in Ferrari troverebbe qualcos'altro perché troverebbe una situazione tecnica simile diciamo come disponibilità a quella che avrebbe in Aston Martin, anzi che avrebbe scusate in Red Bull, che avrebbe in Mercedes e che avrebbe in Alpine quindi un team ufficiale con tanto di motore ufficiale e troverebbe altri aspetti che lo interessano molto ovvero la realizzazione di macchine stradali, la Valkyrie è un suo progetto di fatto ed è qualcosa che l'ha emozionato, l'ha portato a mettere la sua firma in un progetto stradale ma poi c'è anche un altro aspetto e questo l'ho detto prima, cos'è che ho detto prima? Che lui ha la barca, eh sì è molto appassionato di barche e Ferrari sta mettendo un casino di soldi a livello di sponsorizzazione ma anche a livello di impegno proprio di azienda con un certo soldini che di mestiere fa lo skipper, hai capito? E comunque c'è una fortissima attenzione anche da parte della dirigenza, quindi degli Elkan, nei confronti di John, nei confronti di quella che è la vela e di quello che è appunto il mare interpretato in un certo modo, del resto anche il nonno era uno che per mare ci sapeva andare di brutto, ha fatto il record anche d'attraversata oceanica con il Destriero, in cui c'era anche Cesare Fiorio, mitico, chissà dov'è con la barca, si è dispersa nei meandri dell'Europa, mezza rottamata, mezza rotta, ma era una marca bellissima, andava come un caccia e qui ci fecero il record che tra l'altro credo sia tuttora imbattuto. Però, ecco, cioè la mossa per convincere New Way potrebbe effettivamente essere la barca, perché appunto Ferrari punterà molto su questa cosa qua, soldini, le barche, eccetera, eccetera, business che andrà ad affiancarsi in un certo modo a quello delle macchine stradali e in un certo modo a quello della Formula 1, quindi oltre a fargli progettare e dirigere la parte squadra, la parte di Formula 1, ci sarebbe da fargli dirigere pure la parte di progettazione stradale, non dirigere, ma comunque fargli progettare almeno un hypercar, e secondo me avrebbe tantissima voglia di progettare un hypercar Ferrari, perché credo sia il sogno di chiunque mettere, diciamo, la firma in una propria pagina in un librone così mitico come quello della casa di Maranello, e poi ci sarebbe anche da mettere così un'occhiata qua e là alle barche di soldini e di altri, bisognerà capire adesso Ferrari esattamente cosa vuole fare con la vela e comunque con la nautica, però c'è grande possibilità che appunto ci sia un impegno, comunque un interessamento di New Way anche per un mondo, ce l'hanno stuzzicato così, secondo me, dicendogli se vieni ti facciamo fare pure le barche, perché abbiamo questo interesse e ci piacciono e quindi può anche essere che magari ci mettiamo dei soldi e abbiamo bisogno di competenze in quel tipo di ambito. New Way non sarebbe la prima volta che progetta barche, anzi è una cosa che gli piace moltissimo e pensandoci potrebbe effettivamente essere qualcosa che lo attizza, e non poco proprio per muoversi verso Maranello, sicuramente lo attizza la possibilità di lavorare con un grande campione come Lewis Hamilton, non che Sainz o Leclerc, gli stiano antipatici, anche perché poi lui che è giovane c'è sempre lavorato, però insomma lavorare con Hamilton è una bella mossa ed è quasi una garanzia di lavoro ben fatto, almeno l'attopista per quanto riguarda la progettazione di vetture. Di Adrian si ricorda sicuramente la Marche e le Leighton House, quelle che guidavano a capelli, con la V, che poi è stata anche diciamo una croce edilizia per quanto riguarda Senna, si ricordano la FV14, la FV14B con le sospensioni attive, la FV15 di Prost, si ricordano le due McLaren del 98-99, imbattibili, velocissime, hanno delle Iene, anche Micacchinen mi ha detto guarda la macchina più bella guidata è stata quella del 98, il McLaren, una Iena, e ci credo, andava come un missile, anche il 99 andava bene, ma la 98 era proprio un caccia, e poi ci sono diciamo tutte le Red Bull che conosciamo, ha avuto delle difficoltà sicuramente nel periodo dei motori Renault Turbo che non funzionavano, però tante Red Bull, tante idee, tante vittorie, credo che abbia fatto più di 200 vittorie da solo, quindi più di un team di alto livello sono le vittorie di Adrian Newey, comunque grandissimo, sono davvero molto curioso di vedere cosa può fare alla Ferrari un personaggio del genere, non è ancora detto che non vada l'Aston Martin, però per tutti i motivi che vi ho detto, secondo me l'Aston Martin sarebbe un passo indietro rispetto a quello che invece potrebbe trovare alla Ferrari, anche perché poi alla Ferrari i soldi sicuramente non mancano, adesso arriva pure l'HP, quindi Hewlett Packard, quindi tutto sommato credo che due soldini da mettere su, su Adrian Newey ci siano. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto, viva la persona per l'auto e full gas così sempre, ciao!